Diverse per tutti i gusti gli eventi collaterali a questa 61esima edizione della Mossa della Ceramica. Nella mattinata di domenica 28 agosto è stata protagonista il divertimento con la prima edizione della caccia al tesoro delle tre terre canavesane. Un buon numero di partecipanti si sono cimentati alla scoperta dei tesori del territorio tra le vie di Castellamonte. Dopo essersi iscritti presso il gazebo posizionato in Piazza Martire della Libertà, i giocatori sono partiti alla volta delle sei tappe segnate su un foglio, i cui luoghi, elencati con una foto simbolica, dovevano essere individuati dai giocatori. La prima al campo da basket per affrontare una prova sportiva, il secondo luogo era la chiesa di San Rocco dove i partecipanti hanno giocato con la prova del vino. Il terzo l'ex centronziani con giochi relativi alla ceramica e dove si doveva indovinare il diametro della rotonda antonegliana. La quarta tappa era l'orto sociale per dire quali piante aromatiche erano contenute in alcuni sacchetti. La quinta tappa è stata posizionata all'ex casa di Renzo Inie dove si doveva affrontare la prova dei fagioli. Infine l'iceo artistico faccio per cercare le tre insegne ceramiche e fare una foto dell'equipaggio davanti. I partecipanti avevano a disposizione tutta la mattinata.